Ottimizzare i fondi a disposizione dei settori ed evitare che rimangano risorse non spese. Con questo spirito l'assessorato al bilancio della Regione Abruzzo avvia la settimana di preparazione alla discussione del bilancio 2021-2023 del Lente che partirà il 28 dicembre prossimo e che dovrà concludersi entro le 24 del 30 dicembre. Un monitoraggio mensile da parte dell'ufficio bilancio di tutti i conti dei singoli settori con verifica delle spese e adeguamenti in corso d'opera. Questo metodo di controllo costante consentirà di ottimizzare i fondi destinati ai settori, ha detto l'assessore al bilancio Guido Quintino Liris, assicurando che i fondi non spesi possano essere ridestinati a settori più operativi che ne abbiano bisogno. Un bilancio difficile per la sentenza della Corte Costituzionale, una sentenza arrivata pochi giorni fa che reputa incostituzionale l'applicazione della legge regionale che richiama un piano di rientro a 20 anni da parte della Regione Abruzzo su debiti certamente pregressi, certamente di cui la Regione attuale, l'amministrazione, il Governo Marsilio non sa nulla e non può saperne nulla, tutto antecedente con un piano di rientro che era stato fissato a 20 anni. Ebbene, la Corte Costituzionale ha bocciato questo tipo di soluzione, lo ha fatto pochi giorni fa, una decina di giorni fa e qualsiasi altra Regione sarebbe stata messa in ginocchio da una decisione di questo tipo alla vigilia del bilancio di previsione 2022. Oltre ai 29 milioni di euro che dovevamo mettere da parte per il piano di rientro ventennale si aggiungono dei soldi da trovare per un piano di rientro che non può essere più ventennale ma deve tornare ad essere decennale. Ecco perché abbiamo dovuto trovare 17 milioni di euro ulteriori che si sommano ai 29 con dei tagli chiaramente da apportare alla spesa per andare a far quarrare un bilancio. Ecco perché il lavoro che c'è stato dietro per far tornare i conti è stato elaboratissimo. C'è stata una full immersion da parte degli uffici, da parte dell'assessorato, contatti quasi quotidiani con la Corte dei Conti per trovare una soluzione, una rateizzazione che potesse soddisfare la Corte dei Conti, che potesse essere aderente alla sentenza della Corte Costituzionale ma che potesse certamente consentire alla Regione di vivere e di erogare i servizi che a Bursi si meritano.